Riusciamo a toglierla? Eccola! Benissimo! Abbiamo la fortuna di avere un angiografo di ultimissima generazione che chiaramente dà dei grossissimi vantaggi sia per il paziente ma anche per noi operatori in quanto la qualità delle immagini nonché sulle emissioni di radiazioni che sono sicuramente inferiori agli apparecchi che avevamo in uso in precedenza quindi con grossi vantaggi sia per noi, per la nostra sicurezza ma soprattutto per quella del paziente. Oggi è un giorno di grande soddisfazione per noi perché inauguriamo il laboratorio di elettrofisiologia e il laboratorio di emodinamica con l'installazione di due tecnologie innovative e digitali e credo che sia il giusto riconoscimento a una cardiologia che in questi anni è stato centro di riferimento un po' per tutta la nostra regione. Per mettere in condizione questo grande gruppo di professionisti che sono governati dal nostro Tommaso Cipolla il primario della cardiologia che gli permetterà a loro di implementare ulteriormente di aumentare l'indice di complessità dell'offerta sanitaria. Questa è la perla del turismo fra le perle del turismo siciliano è uno dei riferimenti più importanti per il turismo non soltanto balneare ma anche culturale anche naturalistico e poi c'è la perla ospedaliera del Giglio che è una fondazione che lavora con grande impegno punta sulla qualità sullo spessore del proprio personale sanitario e parasanitario noi guardiamo con grande attenzione a questa struttura abbiamo come sapete riqualificato la TAC e la emodinamica abbiamo lavorato e stiamo lavorando per consentire alla sanità siciliana in genere di diventare competitiva con le altre regioni del centro nord e siamo già sulla buona strada. La sala è completamente rinnovata i campi saranno gli stessi di precedentemente ma con una qualità e un'efficacia sicuramente superiore abbiamo un nuovo sistema di apparecchiatura radiologica che ci consentirà di vedere meglio in maniera più corretta delle immagini per impianti di pacemaker, defibrillatori protesi per lo scompenso, per la risincronizzazione cardiaca e abbiamo anche un sistema di appaggio elettronatomico che ci consente di fare ablazioni cioè interventi per la cura definitiva delle ritmie che migliorano notevolmente la sopravvivenza a raggi zero quindi senza utilizzare apparecchiature radiologiche. Beh, intanto siamo, secondo il rapporto che la Svimez ha diffuso nei mesi scorsi, la regione del Mezzogiorno l'unica regione del Mezzogiorno che ha visto diminuire il numero di cittadini siciliani che hanno fatto ricorso a cure fuori regione è un segnale che fa comprendere come per la nostra popolazione il sistema sanitario sia percepito in maniera più adeguata è un lavoro lungo stiamo lavorando a un piano di contrazione della mobilità che metterà in campo una forbice tra 15 e 20 milioni di euro soltanto per il 2020 questo viene accompagnato con l'innalzamento degli standard tecnologici con l'innalzamento degli standard qualitativi e con una diffusione più ampia dell'offerta sanitaria su tutto il territorio. Per noi è importante, se un ragazzo va fuori dalla regione soprattutto se si occupa di attività scientifica come quella medica può essere un valore aggiunto nella misura in cui il suo rientro in Sicilia consenta al nostro sistema di potersi avvantaggiare della qualità delle competenze che sono state apprese ecco perché noi guardiamo al rientro di tantissimi giovani siciliani ci stiamo lavorando se oltre 1300-1400 sono già rientrati in poco più di due anni è anche il segnale che abbiamo creato la rete amministrativa dei concorsi che gli ha consentito di rientrare noi lavoriamo sul far aumentare il numero dei medici che possono essere formati in Sicilia perché siamo consapevoli della esigenza straordinaria per il sistema sanitario di professionalità e competenze che possono essere formati in Sicilia